Un minuto di rapporto. Il nostro segnalatore ci ha avvertito di un largo pozzetto ispettivo della profondità di un paio di metri assolutamente privo di copertura. Dall'alto del pozzetto si scorgono le tubature di raccordo che fanno pensare a un sistema fognario della zona anche se non c'è traccia né di liquidi né di altro all'interno del pozzetto ma rimane tutta la sua pericolosità così come lo abbiamo trovato senza alcuna protezione o segnalazione. Inavvertitamente potrebbe finirci dentro un povero animale che lì vi scorazza come mostrano le immagini del segnalatore che vi si trovava lì proprio con il proprio cane o anche una persona. Il diametro del foro è largo quanto basta per farci passare un uomo di media corporatura senza pensare poi data la vicinanza con una struttura che organizza compleanni per bambini ci dice il reporter di strada che cosa potrebbe succedere anche perché il campo è liberamente accessibile da ogni parte. Non essendoci alcuna recinzione ostaccionata a delimitarlo. Inoltre riprendendo il sito stamattina ci siamo accorti di un altro pericolo. A poca distanza è meno evidente ma ugualmente molto pericoloso. Un altro tombino dove in questo caso sì la copertura esiste ma è solamente appoggiata sopra e basta metterci un piede per poter far perdere l'equilibrio e farsi molto molto male.